Sono settimane scandite da bollettini che restituiscono giorno dopo giorno i numeri legati all'emergenza coronavirus nella nostra provincia. Bollettini attraverso i quali vengono comunicati i risultati dei tamponi effettuati, ma anche di guarigioni e purtroppo di decessi. Se ieri sera i dati comunicati dall'Asla Vellino hanno restituito la positività per due persone entrambe della Valle Caudina e nello specifico una residente a Cervinara e un'altra residente a Rotondi, mentre il comune di Forino attraverso il sindaco Olivieri ha informato la cittadinanza della fine dell'incubo per la prima persona risultata positiva al covid-19 in paese, ovvero della guarigione della dottoressa che lavora a Napoli, oggi purtroppo Ariano Irpino piange per un'altra vittima del coronavirus. Nella serata di ieri è deceduto all'azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati un 79enne di Ariano Irpino affetto da covid-19. L'uomo era ricoverato dal 15 marzo scorso nell'unità operativa di pneumologia. La città del Tricolle ad oggi sta pagando il prezzo più alto sia per numero di persone contagiate, ben 134, che per vittime, 17, di cui una originario di Greci. In attesa del bollettino serale dell'ASL in Irpinia sono 373 i contagiati, di cui 39 vittime e 8 guariti, con 60 comuni interessati da almeno un caso di persone affette da covid-19.